Benvenuti su Gossip in the News. Prima di immergervi nelle ultime novità, vi incoraggiamo a iscrivervi al nostro canale, perché la vostra presenza è importante per noi. Esploreremo le ultime notizie sugli eventi che si sono svolti negli studi del programma condotto da Maria De Filippi, inclusi alcuni anticipi con qualche piccolo spoiler. Durante una delle due ore di registrazione corrispondenti a una puntata, abbiamo visto Ida Platano protagonista. La tronista ha trascorso del tempo con entrambi i suoi corteggiatori, Mario Cusitore e Pierpaolo, in una gita fuori dagli studi. L'interazione è stata intensa e significativa, ma una volta tornati in studio, Platano ha manifestato incertezza riguardo all'impegno dei suoi corteggiatori nei suoi confronti. Nella seconda parte della registrazione, dedicata al trono classico, il tronista Daniele Paudice ha avuto modo di trascorrere del tempo con Gaia e Marica. Con quest'ultima, ha addirittura avuto il loro primo bacio, suscitando però disappunto in Gaia. Paudice ha spiegato di essere attento a rispettare Gaia, soprattutto considerando la sua situazione familiare. Questo ha causato irritazione a Marica, che ha preferito lasciare lo studio. A differenza di altri tronisti, Daniele non ha seguito Marica nei camerini, ribadendo di non aver commesso nulla di particolarmente grave, limitandosi a conversare con Gaia. Nel segmento dedicato al trono over, Marcello Messina e Diego Tavani sono usciti con Jessica. Con quest'ultima, Tavani ha avuto un'esperienza molto divertente, mentre con Marcello non c'è stata una connessione spontanea e l'approccio non è stato dei migliori. Durante la discussione tra Marcello, Diego e Jessica, Jasna Amodei ha fatto alcune osservazioni su Messina, considerando che i due sono stati fidanzati in passato. A questo punto, Marcello ha deciso di lasciare lo studio. Voi cosa ne pensate? Condividete le vostre opinioni nei commenti e se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di lasciare un like e iscrivervi al nostro canale per non perdere i prossimi aggiornamenti.